Ciao, come state? Bentornati. Oggi partiremo da un esperimento concreto con questo magnete superforte che ho preso da un computer e questa barra di alluminio e passo passo, attraverso esperimenti e oggetti di vita quotidiana che avrete sicuramente visto anche voi magari senza farci caso, senza accorgervene, arriveremo a capire il fondamentale concetto dello spin delle particelle elementari che è fondamentale per esempio per capire perché esiste la vita. Noi non saremmo qui a parlare, io non sarei qui a fare questo video tu non saresti lì a guardarlo se le particelle come gli elettroni, i protoni e i neutroni di cui siamo fatti non avessero uno spin pari a un mezzo, poi vediamo cosa vuol dire. O addirittura il concetto di massa che si basa sul concetto del bosone di Higgs si può comprendere solo se si capisce cosa è lo spin, ossia gira intorno al concetto di spin. Nel video di oggi risponderemo alle seguenti domande. Cosa è lo spin dalle particelle, chiaramente? Come si collega a fenomeni di vita quotidiana che osserviamo per strada, in casa, sul lavoro? Perché se le particelle come elettroni, neutroni, protoni non avessero spin uguale a un mezzo, la vita come la conosciamo non esisterebbe affatto? E non esisterebbe tutta la diversità che osserviamo nell'universo. Cosa vuol dire che lo spin è quantizzato? Che cosa è il principio di esclusione di Paoli? Perché noi siamo fatti di particelle dette fermioni e non di particelle dette bosoni? Cosa sono? Qual è la loro differenza? Oggi risponderemo a queste e a tante altre domande lungo il cammino. E per farlo utilizzeremo le carte quantistiche dello spin, chiaramente, e del principio di esclusione di Paoli. Ma toccheremo anche argomenti molto affascinanti ed importanti, fondamentali, come l'induzione elettromagnetica, per esempio. E se avete una grande curiosità di capire sempre di più, vi invito al club di pipite di scienza che abbiamo appena aperto. È un posto per gente che ha una grandissima curiosità di capire come è fatto il mondo in cui viviamo. Il club di pipite è un luogo dove discutiamo di fisica, di scienza, dell'universo, in modo rigoroso e al tempo stesso divertendosi. Riscatta la tua entrata gratuita sul sito di pipitediscienza.it e vieni a vedere un incontro gratuitamente. Bene, siamo pronti per cominciare con lo spin? Partiamo! Ecco il piano di oggi. Prima di tutto capiremo l'importantissimo fenomeno dell'induzione elettromagnetica, utilizzando esempi di vita quotidiana, che avrai visto sicuramente. In seguito applicheremo quello che avremmo imparato al caso di una particella elementare per capire cosa è lo spin. E saremo quindi in grado di scoprire come fu scoperto lo spin nel 1922 e come funzionano le misure quantistiche dello spin. Infine, scopriamo perché non esisterebbe la vita se particelle come elettroni, protoni, neutroni, non avesse lo spin uguale a un mezzo. E perché non esisterebbe tutta la diversità di oggetti e materiali che osserviamo nell'universo senza questa proprietà quantistica dello spin. Iniziamo da questo semplice esperimento. Prendiamo un magnete molto forte, io l'ho estratto da un computer, e una barra di alluminio. Il magnete è in grado di attirare a sé alcuni tipi di materiali, come materiali ferrosi, mentre non è in grado di attirare materiali come l'alluminio, ovvero l'alluminio non è un materiale ferromagnetico. Quindi il magnete non si attacca a questa barra di alluminio, d'accordo? Questo magnete ha una particolarità, ovvero dietro al magnete c'è attaccato un altro pezzo di metallo che scherma il magnete. Cioè da una parte il campo magnetico del magnete è molto forte, dall'altra il campo magnetico è annullato da questa piccola barra di metallo. Ora appoggiamo il magnete dalla parte in cui il campo è annullato sulla barra di alluminio che mettiamo un po' in inclinazione così che il pezzo, il magnete, possa scivolare per gravità lungo la barra. Vediamo che scivola con una certa velocità, più inclinato chiaramente più scivola velocemente. Ebbene ora giriamo, con la stessa inclinazione della barra, giriamo il magnete dalla parte in cui il campo magnetico è molto forte. Vedete che il magnete scende con una velocità molto, molto più bassa. C'è qualcosa che frena il magnete. Il magnete non si attacca alla barra di alluminio, abbiamo detto, perché l'alluminio non è un materiale ferromagnetico. Questo è un fenomeno che si chiama fenomeno di induzione elettromagnetica. E tra l'altro, come vedremo tra poco, questo metodo è utilizzato anche sulle metropolitane, sui treni, per frenare. Ma andiamo per gradi. Come mai il magnete, se appoggiato su una barra di alluminio, che non è ferromagnetica, scende molto piano? Che cosa lo frena? Il magnete, muovendosi lungo la barra, genera un campo magnetico che cambia lungo la barra. Cioè, per un punto della barra il magnete prima non c'era, poi arriva, poi se ne va via. Quindi il campo magnetico è basso, intenso, quando il magnete è sopra questo punto della barra, e poi diventa di nuovo piccolo. Quindi il campo magnetico sta cambiando. Ed ecco un punto fondamentale scoperto verso la fine dell'Ottocento. Un campo magnetico che cambia nel tempo genera un campo elettrico. E un campo elettrico genera correnti, spinge gli elettroni nella barra di alluminio e genera delle correnti. Ora, queste correnti sono tali per cui, secondo un'altra legge della fisica, si genera un campo magnetico. Ovvero, il campo magnetico che cambia nel tempo genera correnti, un campo elettrico che genera correnti nella barra di alluminio. Nella barra di alluminio il campo elettrico che è stato generato genera un campo magnetico, che interagisce con il magnete che sta passando. Quindi è come se avessimo il nostro magnetone che passa sulla barra di alluminio e dei magneti generati temporalmente come correnti dentro la barra di alluminio che interagiscono con il magnete iniziale. E così come due magneti si possono respingere o attirare tra loro, secondo di come sono orientati, in questo caso si attirano. E quindi questi magnetini, creatisi nelle correnti della barra di alluminio, attirano a sé il magnete che quindi scende più piano. Queste correnti si chiamano correnti di Foucault o correnti parassite. Vi sembra un esperimento fino a sé stesso, vuoto, che non ha applicazioni? Ebbene, lo avrete visto anche in casa. Per esempio, quando, se avete una cucina di induzione, la cucina di induzione funziona proprio così. Nella cucina voi mettete la padella sulla placca induzione, nella placca induzione passa la corrente che prendete dal circuito di corrente elettrica. Questa corrente è un campo elettrico che genera un campo magnetico, il quale, penetrando nel fondo della padella, che se ci fate caso abbastanza spesso, genera dei campi elettrici, delle correnti di Foucault. Queste correnti di Foucault fanno sì che gli elettroni si muovano in movimenti circolari dentro la vostra padella, e questo fa sì che gli elettroni sbattano contro gli atomi che trovano, e quindi cedano energia a questi atomi. Cedere energia agli atomi vuol dire che gli atomi si muovono più velocemente, e questo vuol dire che la temperatura della padella aumenta. Quindi l'induzione elettromagnetica è usata per generare correnti di Foucault nel fondo della padella, che poi si scalda. Altro esempio che mi piace tantissimo. Avete mai visto vicino dai semafori dei quadrati disegnati a terra? Giusto appena prima dallo stop. O dei cerchi, normalmente sono dei quadrati o dei cerchi. A che cosa servono questi cerchi e questi quadrati disegnati a terra? Ebbene, dentro questi quadrati, per esempio, c'è una bobina, cioè c'è un filo avvolto più volte, e dentro questa bobina viene fatta passare una corrente che cambia nel tempo. Avete già capito? La corrente che cambia nel tempo genera un campo magnetico. Quando una macchina arriva, il materiale ferroso della macchina, o della moto, o del camion, come volete, è tale per cui si generano delle correnti di Foucault dentro il materiale ferroso del veicolo che passa. Questo, a sua volta, genera dei campi magnetici opposti a quello della bobina a terra, e quindi il campo magnetico totale che passa attraverso la bobina diminuisce, quindi la corrente dentro la bobina subisce una variazione. Quindi, poi, un sistema elettrico rileva che c'è stato un abbassamento di corrente nel quadrato, nella bobina quadrata a terra. Cosa vuol dire? Che è passato un veicolo. Addirittura, a seconda del tipo di veicolo, l'abbassamento di corrente è differente, ha una forma diversa, quindi si può anche capire che tipo di veicolo è passato. Come vi dicevo prima, addirittura la metropolitana o alcuni treni frenano utilizzando l'induzione elettromagnetica. Come fanno? Sull'asse di rotazione delle ruote c'è un disco, e intorno a questo disco c'è un elettromagnete. Cos'è un elettromagnete? È un magnete che si attiva quando io faccio passare dalla corrente, perché è chiaro, faccio passare dalla corrente la quale genera un campo magnetico. Ed ecco che è un magnete che posso accendere e spegnere con la corrente. Questo magnete fa generare delle correnti di Foucault nel disco, e abbiamo visto che come sulla barretta di alluminio il magnete viene frenato, questo disco verrà frenato. E quindi quando io accendo la corrente, la corrente genera un campo magnetico dell'elettromagnete che fa generare delle correnti di Foucault nel disco, che cercano di frenare la rotazione del disco. E il treno frena immediatamente, frena molto velocemente. Altri due esempi che mi piacciono molto. Quando paghiamo con una carta di credito, cosa succede? Avviciniamo, adesso ci sono le carte di credito contactless, cioè senza contatto. Io la avvicino alla macchinetta per pagare e pago, senza toccarla neanche la macchinetta. Come funziona? La macchinetta genera un campo magnetico. Questo campo magnetico entra, penetra nel circuito della carta di credito. Dentro la carta di credito c'è un circuito elettrico con un chip. Questo campo magnetico genera una corrente elettrica dentro il circuito, quindi il circuito si attiva. Non c'è una batteria dentro il circuito, ma il campo elettrico è generato da questo campo magnetico della macchinetta per pagare. A sua volta la carta di credito risponde generando un campo magnetico che viene letto dalla macchinetta. Induzione elettromagnetica avanti e indietro. O addirittura per quando usate un trapano, per esempio. Come fa un trapano collegando con la corrente elettrica a far muovere la punta in modo rotatorio? O come fa un motore di una pompa, per esempio, a generare un movimento rotatorio solo attaccandolo alla corrente? Ebbene, con la corrente, la corrente viene fatta passare attraverso dei fili avvolti in modo appropriato. Questo è un campo elettrico che cambia nel tempo, genera un campo magnetico, quindi abbiamo una parte interna che diventa un magnete generato da queste correnti, una parte esterna che ha un altro magnete generato da queste correnti, e quindi l'interazione tra magneti sappiamo che può far spingere un magnete, un attirare due magnete tra di loro o respingerli. E quindi, disegnando astutamente le bobine, io sono in grado di far ruotare la parte centrale. Mi ricordo che quando ero piccolo andavo in garage a vedere mio padre che riparava dei motori elettrici, ero sempre molto affascinato da questi avvolgimenti di rame super ordinati, ben fatti. E poi quando feci fisica capii a che cosa servivano. Ho preso questo palloncino per capire qual è il collegamento, il nesso tra l'induzione elettromagnetica che abbiamo visto prima e lo spin delle particelle. Prima di tutto gonfia il palloncino. Non troppo che, insomma, esplode. Allora, se adesso io questo palloncino lo sfregassi contro, per esempio, un materiale di lana, beh, ora è estate, quindi è difficile trovare un materiale di lana, però se lo sfregassi contro un materiale di lana, l'avete mai fatto, e poi, per esempio, lo appoggiassi al soffitto, questo palloncino rimarrebbe attaccato al soffitto. O se dopo averlo sfregato lo avvicinassi ai miei capelli, i capelli si elettrizzerebbero e si avvicinerebbero al palloncino, rimarrebbero attaccati, oppure potrei attirare dei pezzettini di carta con questo palloncino. Perché? Perché il palloncino è fatto di una sostanza che non trasporta l'elettricità. Si dice isolante, elettrico. Quindi quando io sfreggo sul materiale di lana, degli elettroni del materiale di lana, degli atomi del materiale di lana, rimangono attaccati al palloncino, che quindi si trova ad avere un sacco di cariche elettriche negative in più. Gioco di parole. Quindi la sfera, diciamo, la sfera del palloncino è elettricamente carica, come se ci fossero tante cariche addizionali in più su questa sfera. Ora, immaginiamo di far ruotare questa sfera carica su se stessa, sempre nella stessa direzione, così. D'accordo? Sempre più veloce. Ora, questa equivale ad una corrente che gira in questo senso, perché una corrente elettrica è fatta di elettroni che si muovono, cioè cariche elettriche in movimento. E quindi qui abbiamo proprio cariche elettriche in movimento. Quindi questo è equivalente, una sfera carica elettricamente che ruota su se stessa, è equivalente a una carica elettrica che gira lungo questa superficie. Ma abbiamo visto, nella prima parte del video, che questo genera un campo magnetico, cioè è equivalente ad avere un magnete. Cioè se io portassi un magnete vicino, il magnete sentirebbe una trazione o repulsione come se qui avesse un altro magnetino. Più giro veloce, più il campo magnetico di questo magnete è forte. Come si misura questo? Allora, quanto più veloce ruota su se stesso il palloncino, quanto più questo palloncino ha quello che si chiama un momento angolare. Cioè il momento angolare misura quanto ruota su se stesso questo palloncino. E più il momento angolare è forte, più ruota velocemente, più il momento magnetico del magnete equivalente è forte. Cioè il momento magnetico è la misura di quanto è forte un magnete. D'accordo? Rotazione, momento angolare, equivalente a un magnete, momento magnetico. Ora, cosa c'entra questo con le particelle elementari? Se io prendo una particella elementare come un elettrone, un elettrone, per quanto ne sappiamo, è puntiforme, cioè non ha una dimensione. Questo vuol dire che non possiamo pensare che la carica elettrica dell'elettrone sia distribuita su una sferetta, perché non esiste questa sferetta, per noi l'elettrone è puntiforme. Ma nonostante ciò, nonostante non si possa usare questo trucco per generare un campo magnetico, risulta che le particelle elementari come l'elettrone, per esempio, il protone, il neutrone, il fotone, eccetera, eccetera, hanno un momento magnetico, cioè sono equivalenti ad un magnete. Vi ricordate l'esperimento del Mn-G-Mann-Stu? Si gira tutto intorno al connesso. Vi ricordate l'esperimento del Mn. Ora, la misura dell'intensità del magnetino di un elettrone è il momento magnetico di un elettrone. Qual è l'equivalente del momento angolare della sfera che gira, cioè di quanto gira su se stessa? Lo spin. Lo spin mi dice, se l'elettrone fosse una particella, come una sferetta, che girasse su se stessa, questa carica sarebbe equivalente a un magnete di questa intensità. Ma rimane solo comunque, ci tengo a dirlo, rimane solo un'analogia, perché se cercassimo di descrivere veramente il magnete dell'elettrone come una sferetta carica che gira su se stessa, otterremmo delle velocità superiori alla velocità della luce. Questo ci dice che lo spin delle particelle, e quindi il momento magnetico delle particelle, è una proprietà intrinseca delle particelle. Tra l'altro la parola spin in inglese vuol dire rotazione, appunto perché ci si ispira a questa immagine per cercare di comprenderlo, d'accordo? Ho pensato a questa analogia per capire la differenza tra una sfera carica che ruota, come il palloncino, e una particella come l'elettrone, che ha un momento magnetico intrinseco. Immaginate due persone. Una persona nasce con una dote innata, intrinseca, per il disegno. Questa persona è capace di disegnare in modo realistico, con qualsiasi tecnica che gli proponiate, qualsiasi paesaggio, qualsiasi oggetto. Ha una dote innata per realizzare disegni realistici, di altissima qualità. Gli viene spontaneo, naturale, intrinseco. Mentre un'altra persona non nasce con questo talento, però ha una passione per il disegno e piano piano, nella vita, fa dei corsi, segue dei maestri, pratica moltissimo e riesce ad arrivare allo stesso livello di bravura della prima persona che era nata con questo talento intrinseco. La prima persona ha un talento intrinseco, la seconda ha un talento che ha sviluppato, ha dovuto fare qualcosa per arrivare ad avere questo talento. Allo stesso modo, le particelle hanno un momento magnetico intrinseco, mentre una sferetta carica come il mio palloncino lo devo far girare, devo fare qualcosa per avere questo momento magnetico, per trasformarlo in un magnetino. Il risultato finale è lo stesso, ma nel caso delle particelle elementari, il momento magnetico è innato, intrinseco quando si crea una particella. Quando, per esempio, un muone, un antimuone dell'esperimento Myon-Gimon-Stu, decade in un antielettrone, o positrone, questo positrone ha uno spin che è innato, che viene di fabbrica quando si crea questo positrone. Vi sembra ancora una cosa troppo astratta? Ebbene, sono sicuro che voi avete visto lo spin delle particelle con i vostri occhi. Quando, se prendiamo un magnete, prendo il magnete di prima, se prendiamo questo magnete, lo apro, questo materiale è un materiale in cui ogni atomo ha uno spin, anche gli atomi possono avere uno spin. Lo spin di tutti questi atomi è allineato, cioè puntano tutti nella stessa direzione, o quasi tutti. La somma di tutti questi momentini magnetici di ogni atomo, ognuno è molto piccolo, ma la somma di tutti questi crea un campo magnetico molto forte, che è il campo magnetico che io vedo qui quando lo avvicino e attira questo pezzo di ferro. Quindi, quando io vedo, quando io uso un magnete, o lo vedo in azione, il campo magnetico è la somma di tutti i campi magnetici di ogni atomo che lo compone, degli spin di ogni atomo o particella che lo compone. Quindi sì, è possibile vedere lo spin, in fin dei conti. E ogni particella ha il suo valore di spin determinato, che non si può cambiare. E addirittura questo spin è quantizzato. Ora vediamo cosa vuol dire. Come si scoprì che le particelle hanno uno spin, un momento magnetico, se questo momento magnetico è molto piccolo? Ebbene, nel 1922, Stern e Gerlach fanno un esperimento storico. Vediamo la versione di questo esperimento, prima con magneti macroscopici, cioè visibili occhio nudo, e poi con magneti particellari, cioè con elettroni, con particelle elementari. Se io mando dei piccoli magneti in un magnete molto grande, a seconda dell'orientazione del magnetino, questo magnetino verrà deviato in modo diverso nel passaggio dentro il campo magnetico molto forte. Quindi, a seconda dell'orientazione, il magnetino che passa può venire deviato verso l'alto, o verso il basso, o non venire deviato affatto, o avere una deviazione intermedia. Tutte le possibili deviazioni intermedie sono possibili perché l'orientazione di questo magnetino, che passa nel campo magnetico molto forte dell'esperimento, può prendere qualsiasi valore. Cioè io posso far ruotare, mandare dei magneti in posizione verticale, o a qualsiasi angolatura che io voglia, nel limite, chiaramente, delle misure di questi angoli. A un certo punto, Stern e Gerlach, invece di mandare dei magneti macroscopici, cioè visibili occhio nudo, mandano delle particelle, degli elettroni. Un elettrone, abbiamo detto, ha uno spin, ovvero l'elettrone ha un momento magnetico. È come se fosse un piccolo magnetino. Ora, mandando elettroni, ci si aspettava che si potesse orientare l'elettrone in qualsiasi direzione, nel suo momento magnetico, e quindi all'uscita gli elettroni ci si aspettava che si distribuissero in modo uniforme. Invece, Stern e Gerlach osservano che gli elettroni o vanno tutti verso l'alto, o vanno tutti verso il basso. Nessuno si arriva in posizione intermedia. Perché? Cosa ci dice questo? Ci dice che la posizione del momento magnetico dell'elettrone può assumere solo due valori. Cioè, in questo caso, se il campo magnetico dell'esperimento è in verticale, il momento magnetico, il magneto dell'elettrone, può essere orientato solo verso l'alto o verso il basso. Non ci sono altre possibilità. Questo vuol dire quantizzato, che non posso orientarlo come voglio, ma solo in un numero preciso, finito, di modi. In questo caso, due. Verso l'alto o verso il basso. Quindi è quantizzata l'orientazione che può prendere. Al contrario di quello che ci si aspettava da un magnete macroscopico. E questo esperimento ci consente anche di misurare quant'è la forza di questo magnetino dell'elettrone. In unità di h tagliato, che è la costante di Planck divisa per 2π, il momento magnetico dell'elettrone vale un mezzo. Cioè, il momento magnetico dell'elettrone ha un'intensità pari a un mezzo h tagliato. Se ignoriamo l'acca tagliato, che è come dire, che potremmo inglobare nell'unità di misura come i metri, i chilogrammi, diciamo, lo spin dell'elettrone vale un mezzo. Altre particelle, invece, hanno spin uguale a 1, per esempio, come il fotone. Altre particelle hanno spin uguale a 0, come il bosone di Higgs, come vedremo lungo questa serie della meccanica quantistica qui a pepite. Protoni, neutroni, elettroni hanno tutti spin, un mezzo. Se ci fate caso, sono tutte le particelle di cui sono fatti i nostri atomi, la materia di cui è fatto quasi tutto quello che vediamo con i nostri occhi. Le particelle di cui è composto l'universo si dividono in due tipi. Da una parte abbiamo le particelle con spin intero, cioè 0, 1, 2. In unità di h tagliato sempre, quindi 0 volte h tagliato, una volta h tagliato, due volte h tagliato. Questa è l'intensità del magnetino di ogni particella. Dall'altra abbiamo particelle con spin semi intero, un mezzo h tagliato, tre mezzi h tagliato, cioè 0,5 h tagliato, 1,5, 2,5 e così via. Particelle con spin 0 sono, per esempio, il bosone di Higgs. Particelle con spin 1 è il fotone, il gluone, i bosoni dell'interazione debole, come i bosoni W e Z, cioè i portatori dell'interazione fondamentale. Il fotone è il portatore dell'interazione elettromagnetica, i bosoni W e Z sono i portatori dell'interazione debole, i gluoni dell'interazione forte, e il gravitone, che è ipotizzato da alcune teorie, che ha spin 2, quindi intero, e sarebbe il portatore della gravità, dell'interazione gravitazionale. Non è ancora stato osservato, quindi è solo ipotetico, quest'ultimo. Queste particelle che ho appena elencato sono cosiddette i bosoni, quindi sono i portatori dell'interazione fondamentali. Dall'altra parte abbiamo i fermioni, che sono le particelle di materia, di cui è composta la materia, gli atomi, per capirci. L'elettrone ha spin 1,5, il neutrone ha spin 1,5, il protone ha spin 1,5, il muone, il tauone, e così via. Questa differenza è fondamentale affinché esista la vita. Perché? Per i fermioni vale un principio fondamentale della meccanica quantistica, che è il principio di esclusione di Paoli, che dice che due fermioni non possono trovarsi mai nello stesso stato quantistico. Che cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Prendiamo un nucleo, un atomo di elio, quindi ha due protoni nel nucleo e due elettroni intorno a questo nucleo. Questi due elettroni hanno spin 1,5, quindi sono fermioni, quindi obbediscono al principio di Paoli. Possono stare allo stesso livello energetico, il più vicino possibile al nucleo centrale, solo perché il primo elettrone orienterà lo spin verso l'alto, per esempio, e il secondo elettrone orienterà lo spin verso il basso. E questo gli consente, consente ai due elettroni, di stare alla stessa energia, ma di differenziarsi per l'orientazione dello spin. Cioè, hanno tutto uguale tranne lo spin. Se ora aggiungo un terzo elettrone, questo elettrone non potrà stare allo stesso livello energetico, dovrà stare a un livello energetico più alto, perché qui, a questo livello energetico, non c'è più modo di essere diversi dagli altri. Se questo terzo elettrone arriva, o ha spin su, o ha spin giù, ma non può essere uguale a uno degli altri due. Quindi non può stare lì, quindi deve stare più lontano. Quindi man mano che i nuclei diventano grandi, gli elettroni che si aggiungono si trovano sempre più lontani dal nucleo, perché non possono stare nello stesso stato quantistico. Se potessero, starebbero tutti nello stato quantistico energetico più basso, vicino al nucleo. Ma questo cosa vorrebbe dire? Che tutti gli elettroni degli atomi sarebbero super legati, molto legati ai nuclei. Ci si vorrebbe molta energia per estrarli dai nuclei. Questo vuol dire che gli elettroni non si allontanerebbero mai dai loro nuclei e quindi non formerebbero mai legami con altri atomi, quindi non formerebbero mai molecole. E chiaramente questo porta a che non si creerebbe mai nessuna struttura complessa. E quindi non si creerebbe mai la vita. E quindi proprio il fatto che aggiungendo più elettroni, questi devono stare a livelli energetici sempre più alti, perché è impossibile per due fermioni, particelle a spin un mezzo, stare allo stesso, avere lo stesso stato quantistico, questo porta a che gli elettroni più lontani dal nucleo siano più debolmente, siano debolmente legati al nucleo. Quindi è più facile che due atomi che si avvicinano, che si avvicinano, possano strapparsi questi elettroni o condividerli. Quando si forma un legame tra due atomi per formare una molecola, per esempio ossigeno con ossigeno, gli elettroni di valenza, cioè quelli, si dice così, quelli più lontani da ognuno dei due nuclei, sono così debolmente legati che basta poca energia per strapparli dai nuclei. Questi elettroni si distribuiscono intorno a entrambi i nuclei, formano come una specie di aurea che li tiene insieme. D'altra parte invece ai bosoni piace stare tutti nello stesso stato quantistico. Per esempio, due esempi tipici sono i superconduttori o i superfluidi. Se raffreddiamo a temperature molto basse, meno di 270 gradi, alcuni tipi di materiale diventano superconduttori, cioè conducono elettricità senza perdita di energia dovuto al riscaldamento del materiale, per esempio. E questo accumularsi di particelle con spine intero, 0, 1, 2, nello stesso stato che dà luogo al superconduttore. Un altro esempio è il laser. Il laser è fatto di fotoni, ai fotoni piace stare tutti nello stesso stato, nel laser la coerenza di tutti questi fotoni è estremamente alta e questo genera il fenomeno del laser, grazie proprio al fatto che ai bosoni piace stare tutti nello stesso stato, contrariamente ai fermioni. Non è bellissima la varietà che ci offre la natura, che ci offre l'universo? Allora, io vi aspetto per un altro video e vi aspetto anche al Club di Pepite di Scienze. Ricordate, se avete una grande curiosità di capire come è fatto il mondo, approfittate, venite al Club di Pepite di Scienze e voleremo alto insieme. E puoi riscattare la tua entrata gratuita direttamente dal sito di Pepite di Scienze o scrivendomi un'email. Iscriviti ora al mio canale proprio qui e accendi la campanella e insieme esploreremo concetti affascinanti alla frontiera della ricerca scientifica e concetti fondamentali alla base della nostra conoscenza dell'universo. Ciao!